A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vitti, si inizia una nuova settimana, siamo ormai nel primo mese estivo, però ci sono delle importanti novità. L'instabilità tenderà a ringalluzzirsi, infatti guardate, avremo già dal mattino molte nuvole, soprattutto sul Piemonte, sulla Val d'Aosta, rovesci di piogge temporali anche di forte intensità, che poi tenderanno a sfilare verso la Lombardia, ma comunque il maltempo insisterà proprio sul Piemonte, anche nella seconda parte della giornata, solo verso sera si attenuerà un po'. Quindi prepariamoci ad un inizio di settimana scoppiettante ed occhio ai fenomeni anche intensi. Temperature minime comprese tra i 16 e i 18 gradi centigradi, concludiamo con le temperature massime che caleranno ovviamente, caleranno di 3 o 4 gradi, temperature massime comprese tra i 22 e i 25 e i 26 gradi. E' tutto cari amici, diretta 7, prepariamoci quindi ad un inizio di settimana scoppiettante, arrivederci!